3 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 17 Capitano della Piu Piu E' lì Buongiorno Fai tu delle domande? E' tipo E che ne so, invece di qualcosa ho dovuto mettere Stare bene Non lo so, fai tu Che brava, che brava Fai tu, brava, non lo so Viva la cassa del 37 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.